Pronti nuovi finanziamenti per l'ammodernamento delle imprese agricole siciliane, con fonti del PSR, grazie a un avviso che permetterà lo scorrimento delle graduatorie di due precedenti bandi. Lo dice l'assessore regionale all'agricoltura Luca Sanmartino, annunciando la pubblicazione dell'avviso prevista per domani, relativa a due bandi della sottomisura 4.1. Innovazione e ammodernamento delle aziende agricole del programma di sviluppo rurale. Con questo nuovo avviso legato alla riprogrammazione finanziaria del PSR, che permetterà di avere disponibili fino a 150 milioni di euro, spiega Sanmartino, si estende la possibilità di accedere ai fondi previsti dalla misura a chi è interessato e alle condizioni e all'interesse per la realizzazione dell'investimento. Le aziende potranno rimodulare i loro progetti per sopravvenute esigenze per nuovi orientamenti del mercato e tenere conto dell'incremento dei costi di investimento causati dal conflitto russo-ucraino. I progetti finanziabili riguardano i nuovi impianti arborei o la riconversazione varietale di quelli esistenti, miglioramenti fondiari e sistemazioni idraulico-agrarie, spietramenti, terrazzamenti, recinzioni, viabilità azientale ed elettrificazione, serre e tunnel per colture protette e florovivaismo, realizzazione o ristrutturazione di strutture per allevamenti, stile stall, ricoveri e recinzioni e miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, acquisto di macchine, attrezzi agricoli e attrezzature per trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti, esempio oli e formaggi, realizzazione di punti vendita aziendali e sale e degustazioni, realizzazione di opere per l'irrigazione. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2023. venditrà.